Ciao, sono Gianluca Galassi, il capitano dell'Italia nazionale. Siamo molto bene dell'Irania, e sappiamo che è molto buono, ma sappiamo anche nella nostra capacità. Possiamo combattere loro, ma in fine, sono meglio di noi, e per questo vengono. E io voglio che l'Irania giochino molto bene la semifinal, e andare al podium, perché sono molto bene, e per questo sono.